A Firenze non sono state registrate criticità, ma saranno intensificati controlli agli obiettivi sensibili e all'aeroporto con un particolare riguardo al perimetro esterno. Anche la stazione di Santa Maria Rovella, come l'aeroporto, è stata oggetto di particolare attenzione e ci saranno più pattuglie. Questo l'esito della riunione di coordinamento delle forze di polizia in prefettura a Firenze, secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Interno, che si è svolta ieri. Nel corso della riunione, si spiega, è stata svolta un'approfondita e mirata analisi della situazione della sicurezza a Firenze, alla luce dei recenti fatti di terrorismo che si sono verificati a Mosca. Niente allarmismi, si spiega, non essendo stati al momento registrati segnali di possibili criticità. Costante confronto, invece, in sede di riunioni di appositi gruppi di lavoro istituiti per l'occasione e successive analisi in riunioni di coordinamento delle forze di polizia per garantire una globale attività di controllo e prevenzione. È in corso un rigoroso e attento lavoro, peraltro già avviato, all'esito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21 marzo scorso, per garantire il sereno svolgimento dei riti pasquali e delle giornate di festività che vedono Firenze quale meta turistica preferita da milioni di visitatori. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti dell'esercito responsabili di strade sicure, confermato a partire dal 5 aprile prossimo l'incremento della presenza di militari così come disposto dal Ministero dell'Interno. Per lo scalo ferroviario accanto ai militari già operativi all'interno della stazione con il coordinamento della Polizia Ferroviaria verranno aggiunte ulteriori pattuglie che, secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Interno, saranno impiegate insieme alla Polizia di Stato nelle aree adiacente alla stazione, recentemente oggetto di particolare attenzione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Grazie a tutti.